Siamo a Bruxelles, l'evento è Region4Cloud, un evento promosso dalle regioni d'Italia, Spagna e Portogallo in collaborazione con Microsoft. E di regioni vogliamo parlare con la Presidente del Comitato delle Regioni Europee, la signora Mercedes Bresso, a cui chiediamo qual è il ruolo delle regioni in questa nuova prospettiva europea. Il ruolo delle regioni è sicuramente quello di essere gli attori di strategie territoriali. Quello che abbiamo imparato dal computing generale, dalle nuove tecnologie, è che l'efficienza si fa tutti insieme o non si fa. Alle regioni spetta garantire che la banda larga e veloce esista realmente, ma anche garantire il fatto di una transizione comune che consente a tutti di essere più forti e più efficienti. E questo può essere fatto solo a scala territoriale, non può essere fatto per tutta l'Europa, o solo nel piccolo comune o solo nella singola azienda. Lei rappresenta le regioni d'Europa e questa sera vi erano rappresentanti di Fran, di Spagna, Portogallo e Italia. L'evento è stato promosso con il sostegno di Microsoft. Le vorrei chiedere se questo è un nuovo modo di intravedere una collaborazione tra istituzioni locali e mondo dell'impresa. Credo che sia in qualche modo una europeizzazione. Noi siamo abituati in Europa a un rapporto con quelle che vengono chiamate le lobbies, ma che sono anche i portatori della ricerca, dell'innovazione, di soluzioni nuove. E quindi certamente per le regioni spesso è meno frequente. Credo che trovarsi tutte insieme regioni, ma anche città, perché avevamo anche città, e noi rappresentiamo non solo le regioni, ma anche le città nel Comitato delle Regioni, insieme a Microsoft si è servito a capire da un lato, non solo come tecnicamente funziona la tecnologia del cloud computing, ma capire anche quali sono le opportunità, i problemi, a riflettere, diciamo, i problemi, i vincoli burocratici, regole giuridiche, ma anche a capire come, ragionando insieme e magari anche costruendo progetti trasfrontalieri, si può fare meglio più rapidamente. Regioni d'Europa e Digital Divide. Di quanto è importante assicurare a tutti i cittadini dell'Europa che vogliamo l'accesso alla rete? Secondo me è essenziale. Oggi assistiamo a un paradosso che i cittadini singoli di fatto sono già nella rete, attraverso le proprie mail, attraverso internet, attraverso l'uso dei servizi che trovano nella rete e quindi trovano sostanzialmente attraverso poi la cloud computing. Però questo sistema non si è ancora trasferito, se non parzialmente, nel sistema delle imprese, quindi nel mondo del lavoro e nel mondo della pubblica amministrazione. E questo perché la condivisione dei dati in questo caso è essenziale. Cioè c'è un problema essenziale di come condividere i dati e quindi fare questo passo avanti tutti insieme. Prendiamo il caso della sanità. Non serve a nulla che una singola azienda sia in rete e abbia i propri dati nella nuvola. Se non c'è da un lato il sistema e se non c'è la possibilità di accesso ai dati del sistema. Quindi condivisione e passaggio comune sono elementi essenziali. E ciò, la stessa cosa si può dire per il sistema delle imprese. Noi abbiamo una rete di piccole e medie imprese che sono praticamente la forza di tutta questa parte d'Europa, ma l'Italia ancora di più, ma certamente tutti i grandi paesi del sud Europa. Per le piccole e medie imprese, di nuovo, il vantaggio competitivo si crea nel momento in cui il passaggio lo fanno insieme. In questo senso sono proprio le autorità territoriali di scala regionale che devono avere il coraggio di prendere in mano l'iniziativa e di costruire questo percorso insieme al proprio sistema economico, produttivo, commerciale, terziario, turistico, agricolo. Regioni ed Europa digitale, la parola d'ordine è l'inclusione. Quanto è importante non lasciare indietro nessuno e quanto è importante in questa chiave occuparsi dell'inclusione della terza età e mi verrebbe voglia di dire anche della quarta età? Intanto la terza e la quarta età sono un'opportunità perché rappresentano una fetta grande e crescente di popolazione. In realtà ci accorgiamo tutti che ci sono enormi opportunità nella fornitura di servizi, per esempio quando parliamo della gestione della sanità, cioè di una condivisione dei dati della sanità, questo si applica moltissimo alle persone anziane che hanno più bisogno di cure, per le quali le cure domiciliari sono essenziali e quindi avere la condivisione dei dati ed avere l'arrivo fino alle famiglie, fino alle persone del sistema dell'accesso ai dati, da e per, è assolutamente essenziale. Credo che potremmo, nell'anno proprio dell'invecchiamento attivo, potremmo darci un obiettivo che definirei non perdiamoli di vista, cioè se tutte le persone che vanno in pensione ci assicuriamo che abbiano un'alfabetizzazione informatica e a internet e che possiedano la strumentazione minima che vuol dire sostanzialmente un semplice computer ma un accesso, perché il punto è l'accesso alla rete, quindi un contratto magari dedicato, magari meno costoso per loro, in quel caso io penso non li perderemo davvero di vista, li aiuteremo ad avere accesso a servizi e opportunità, ma creeremo anche un grande mercato. La crisi economica picchia duramente, ma anche le regioni d'Europa, tutte le regioni d'Europa sono impegnate e devono offrire nuovi servizi digitali al cittadino. Il cloud computing ci viene incontro perché ci dà efficienza ed economicità. Due parole d'ordine molto importanti. Le regioni d'Europa e le comunità territoriali faranno proprio questo piano di azione? Io mi auguro perché una cosa che appare evidente a tutti è che la tecnologia del cloud computing consente di ridurre enormemente le spese per investimenti fissi, i grandi calcolatori di una volta che erano costosissimi e sottoutilizzati, quindi non c'è dubbio che ci siano degli enormi vantaggi per le amministrazioni pubbliche che hanno il problema di ridurre le dimensioni, il peso degli investimenti e di investire di più sull'innovazione e la ricerca piuttosto che sulla fornitura di pesanti investimenti fissi. È evidente però che occorre che anche in questo senso l'Europa ci aiuti consentendo che gli investimenti nella vera infrastruttura fissa di base che è la banda larga ultraveloce, questi investimenti siano finanziabili in tutte le regioni d'Europa anche attraverso i fondi europei perché in un momento in cui c'è bisogno di rilanciare la crescita e i nostri paesi in particolare, quelli del Sud Europa, sono vincolati ai patti di stabilità rigidissimi, le risorse europee sono spesso le sole disponibili per investimenti. Ringrazio la Presidente Mercedes Bresso, Presidente del Comitato delle Regioni Europee. Grazie, arrivederci.